L'amicizia non finisce mai, purtroppo è così. Direttore, se tu ricordi quando abbiamo presentato il libro della Maria Micheli, dove io ho messo due poesie nel libro, dedicata a questa donna così ricca di valori, una donna che io ho conosciuto e che stimo tantissimo, lei diceva che l'amore non è eterno, purtroppo è così. L'amicizia sì, è vero? Grazie, grazie a tutti che mi avete dato questa bella opportunità di trascorrere una serata e raccontarmi, magari con umiltà, con un po' di ironia pure, però era una serata che voleva, un po' sentimentale, un po' intima. Grazie, grazie a voi per avermi dedicato un po' di questo tempo. Grazie, buona sera.